E sempre tra le misure prese dalla Giunta, anche degli interventi per rafforzare i confidi, oltre 22 milioni di euro, quindi per aiutare le imprese nell'accredito. Anche qui abbiamo intervistato l'assessore Mario Melazzini, l'assessore dell'attività produttive. Assessore Melazzini, due delibere importanti per sostenere finanziariamente le imprese, questa tra le decisioni prese oggi in Giunta? Due delibere importanti, una per sostenere finanziariamente le nostre imprese, la seconda per capire, studiare e fare una ricognizione precisa e puntuale sullo stato sia finanziario che patrimoniale delle aziende che aderiscono, socie e non socie, ai confidi di primo livello. Cioè un protocollo d'intesa con Federfidi per una due diligence per fare una ricognizione precisa e puntuale su quanto vi ho appena detto, cioè finanziario e patrimoniale delle nostre imprese, per poter poi in maniera dettagliata costruire un piano d'azione e comprendere quali strumenti migliori mettere a disposizione delle nostre aziende. La prima invece, sul sistema di garanzie, noi andiamo a liberare risorse che erano state allocate nel novembre del 2009, i famosi formigoni Loan, li mettiamo a disposizione delle aziende che possono capitalizzarli, cioè fare un aumento del capitale sociale senza oneri aggiuntivi, ma soprattutto senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in modo tale che viene aumentato il sistema di garanzia nei confronti delle banche.